iscriviti al canale ricorda che se i piadri agli inter se ricordiamo a tutti gli haters la fuori che dicono un tempo è più forte fatelo voi un figlio e poi venite a dirmi se siete il top 100 in qualcosa oltre che nel cambio dei pannolini masteo cacca masteo cacca ecco top 50 13.000 3.000 1.000 punti io non sono nella top 100 neanche tra i figli perfetti ma dai siamo solo due mucchina mucchina se non mucchi mi impazzisco xqn xqn ehi vergognati magari non l'ha vista non mi ha mucchi non ha fatto la mucchina che ande gabby non mi ha fatto la mucchina il saluto l'ha fatto allora ok ok lo cancellavo eh no 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 nessuno sia a vittoria credo poi ha livellato mandagli un messaggio xqn be weak please lobby con xqn è già vinta praticamente Dov'è niente anche T2? Questa stia Dove essere infK A casa tua pare che sono tutti ammali Ma non c'è Allora L'ho livellato Io non voglio livellare Compio 9 o 2 però Quanto tempo fa partecipare al TN0 con XQN? Non lo so 9 o 2 hanno livellato al TN0 Qua lui è contentissimo di vedermi perché Eh già Perché non livello? Questa è coppia, questa è forte È pericoloso là fuori Ma ciò che può alcavarsela Questa è la tua Vendendo lui? No Se io riuscissi ad attivare il laggiù al prossimo tuo E non sei benato No? Ehm In vacanza Senza gv facciamo autogestione in chat Eh ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Penso che volevo giocare molto che pirati Cocane che brutta cosa questo La merda Certo che posso prendermene cura io Ecco una moneta d'oro No Non lo faceva a saperlo Che maledetto Attacca in fondo a destra Oh Così si fa Fagli capire chi comanda 6 di 8 Mui lo pirati si compra tutto Dai Perfetto E' dea look out Finisca No 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 anzi ecco una comunque so che c'è Oggai nelle opzioni ma secondo me è meglio così secondo me si vanno al 4 e al 6 in questo meta compio un po' tutto quello ha un cuore puro si capisce distruggete questo posto grazie per la sua un abbraccio grande da Jerry Scott non abbraccio grande da Jerry Scott buffo perché sono con XQN e voglio farlo fuori guardate il buff che ho fatto su di lui quanto è stato forte cioè nessuno nota queste piccole sottigliette di gameplay ma è stato broken poi lui ha sculato però è stato broken grazie a tutti ho trovato l'unica coppia ok ho generato delle coppie che è la cosa importante ho fatto la lettura Quasi Però l'aveva letta Siamo una tripla reggente Eh sì Adesso almeno due coppie Ok, ecco la tripla Vediamo se stiamo a rogare Nop Che ci faccio con Tony ragazzi Dai un minimo di serietà Tony per te Grazie per la suba Budilicioso Un abbraccio grande Grazie Un abbraccio grande A Tino Da Jerry Scotti Ventesimo mese Grazie di cuore C'è anche questo Ti meriti di meglio Ecco Prendi una moneta C'è qualcosa di più bello Compio Ah devo mettere la gemma Avete detto giusto Va bene Vecchi alert Molto meglio di Jerry Scotti Vabbè dai Cazzi non è vero Non è vero Periodo di Jerry Scotti Ci vuole Scusatemi Dopo si rimettevano i vecchi alert Però non so I Scotti non si intavano Di là Abbiamo fatto Little Spears Eh Eh No viste a te igravi. è incredibile, è molto più forte di prima Tony per gol da Eloy trovo che lo spostaggio a me non è malissimo come faccio la pede? aspetta mai che Tony non si attiverà mai in realtà non è bello qui questo attacco di dettaglio C'è riuscito Vabbè facciamo l'Ital Meglio Ma si toglie comunque toni qui Una bella idea Sotterriamo le ossa Perse dei ricordi Siete sulla vista degli invitati? Sono un coglione Si è arrivata malissimo 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 Ciao tonno tonno Quella battaglia è andata alla grande Lo vedete quanto ci sono Una bella Alla giorno Divine Wind Fury lì è fortissimo. Puoi dirlo forte Raptor? Ti farò un buon prezzo. Falcami un estriero marino. Sbaglio? Sbaglio? O questo è un little pulito pulito? Pulito pulito! Questo è lo sfalto. Lo sapevo! Ce l'avresti fatta! Io dico culo. Eh culo. Che poi andiamo? Toglio il ruolo o qualcosa? Cosa? Quello ha un cuore puro. Si capisce? Si capisce. Ci sono delle nuove reclute promettenti. Non lasciatele sfuggire. Se viene il barone sono d'accordo. Lui va bene. Stogliere atto. Prendere il cavaliere. Giovo due di questi che posso triplare. Sembra... Quanto ok. La in alto stai proprio bene. Scendo. Beh scenda. Incredibile. Implacabile. 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 Senape. Senape game eh. Non era senape oltre peccante perché ho fatto un pareggio. Ma insomma. Ma insomma. 昨ete asire. Si ci aiutateme. Vi ce Syndici paginate. La segundica di comma. Ma insomma. Confita. I al oversimplacabile. Sì. これ.